La FLC CGL contro il dimensionamento scolastico ma non solo. Sono tantissime le criticità. Il sindacato parte da rilevare i dati drammatici sullo spopolamento delle aree interne dove invece la scuola è presidio fondamentale. L'anno scolastico già è partito con 135 iscritti in meno. I numeri della provincia dell'Aquila sono i peggiori. Manca personale e ata e questo genera un numero di precari tra i collaboratori molto alto. Per quest'anno scolastico sono stati assunti a tempo determinato 164 collaboratori, 7 assistenti amministrativi, 5 tecnici, 3 guardarobbieri e 2 cuochi. Relativamente ai docenti in provincia dell'Aquila ci sono 1.291 precari, la maggior parte nel sostegno. Situazione penosa poi per il sindacato sull'edilizia scolastica. Una prospettiva che conduce al dimensionamento disposto dalla legge di bilancio del 2023. L'Aquila perderà 3 o 4 dirigenze scolastiche con l'accorpamento di istituti che non rientrano nei parametri regionali. Questo senza ascoltare le esigenze del territorio, anche se il Consiglio Comunale ha prodotto un documento che chiede la deroga anche per i territori colpiti dal sisma 2009. Siamo in fase di elaborazione di una proposta da parte dell'ente provinciale che l'ente provinciale dovrà poi trasmettere alla Regione per avere una delibera, diciamo così, definitiva entro i prossimi mesi, credo entro il 30 novembre. Noi abbiamo una posizione di contrasto, non da soli, anche con altre sigle sindacali, perché appunto conoscendo il territorio, conoscendo come sono dislocate le scuole della nostra provincia e le difficoltà rispetto alla viabilità, rispetto all'assenza dei servizi, riteniamo che accorpamenti di dirigenze finirebbero per facilitare, per aumentare lo spopolamento, invitando intere famiglie di utenza a trasferirsi nelle zone più urbane, quindi più comode. Non dimentichiamo mai che l'importanza delle scuole in questi piccoli posti è soprattutto un'importanza culturale e sociale. Sono presidi e vanno in tutti i modi tutelati.